Ancora una volta a creare il caso è stata la rete a commentare con tanto di illazioni una a dir poco singolare circolare emessa dalla dirigente di un istituto scolastico comprensivo salentino, il Cosimo De Giorgi di Lizzanello Merine, a vietare ad insegnanti e collaboratori della scuola qualsiasi contatto fisico tra il personale scolastico e gli alunni, vietato abbracciarli, prenderli per mano o baciarli sulla guancia, con tanto di sanzioni disciplinari previste in caso di inosservanza di quanto disposto. La data di emissione risale come si evince all'home page del sito internet dell'istituto allo scorso 11 marzo, il tempo di qualche giorno di incubazione perché la vicenda deflagrasse sul web con i più ad etichettare il provvedimento come una sorta di circolare antipedofilia scaturita forse da qualche sottaciuto episodio di violenza o di abusi sui piccoli alunni. Un'ipotesi alla quale la dirigente Bruna Morena risponde con sdegno in una nota stampa diramata di concerto col personale scolastico e a firma congiunta con l'assessore comunale alla pubblica istruzione del comune di Lizzanello, Adele Ingrosso, esplicitando come si tratta in realtà semplicemente di uno strumento per tutelare lo stile educativo e la formazione scolastica degli alunni. Un'interpretazione da gossip, lesiva della serenità degli alunni e dei loro genitori, tuona la dirigente, lontana dal fine primario pensato anche a tutela dello stesso corpo docente, come recita la nota diffusa, spesso oggetto di infami e accuse infondate.